Ciao a tutti, se sto facendo facce strane è perché c'è una neve fina fina che sta cadendo orizzontalmente, proprio va negli occhi, è tutto bianco, guardate qui il parco, c'è un bel po' di gente, domenica pomeriggio. Allora, volevo dirvi solo una cosa veloce, commentate, ho scritto ieri un articolo sul mio blog nel quale parlo di alcune mie opinioni sul giornalismo italiano, in particolare lì cito Marco Travaglio su qualcosa che ha detto che riguarda la politica estera, Assad, Putin eccetera eccetera, ma in generale mi piacerebbe leggere più commenti vostri, cosa pensate delle mie affermazioni, delle mie domande eccetera, dei miei dubbi perché sì, mi aiuterebbe insomma anche a decidere di cosa parlare, non so se qualcuno mi segue, se pensate che sono matto a queste cose qui, quindi non abbiate paura e non mi offendo, non sono particolarmente permaloso, credo, e così, fatemi sapere cosa pensate delle cose che dico e che scrivo, se c'è qualcosa che devo spiegare meglio, se i miei argomenti li convincono oppure no, se c'è qualcosa di cui vorreste conoscere di più, ma di miei opinioni, non so, sulla Russia eccetera, qualcosa, qualsiasi cosa insomma ecco, fatemi sapere, io sono qua, più che neve non posso mostrarvi, ben che bellino oggi perché ha nevicato tutta la notte, quindi anche gli alberi sono tutti belli, tutti belli bianchi, mi fermo un secondo, ecco sposto il mio faccione, va bene insomma, alberi e neve, ecco, più di questo non posso mostrarvi, quindi devo cercare di dire qualcosa di interessante, vi saluto, ciao ciao!